Il Figline si prepara ad affrontare la trasferta di Siena Lunga con le giuste motivazioni dopo il netto successo mazionato ai danni del Porta Romana grazie alla doppietta di Gabriele Vangi che spiana la strada del 14esimo successo dei Giallo-Blu e alle reti di Marini e Mannella. La prima palla-gol però è per gli ospiti con De Vito che c'entra il palo ma scampate il pericolo. Il Figline comincia a giocare come ci ha abituato nel corso di questo campionato e nella fase iniziale a seguito di una combinazione Marini-Serrotti Vangi sblocca il risultato con un tocco da sottomisura. La replica degli ospiti è immediata e Conti sfoderà il meglio del suo repertorio per evitare la capitolazione. Gana che sarà di tono e Figline che trova il raddoppio con Vangi che da posizione defilata spedisce il pallone a insaccarsi sotto la traversa e per l'une vale la doppietta e l'undicesimo centro personale in campionato. Il tempo si chiude con la terza rete dei gialloblumes a segno da Marini che fa tutto da solo e spedisce il pallone a insaccarsi dove Lombardini non ci può arrivare e gara segnata a questo punto perché nella ripresa il Figline va ancora a segno nei primi minuti di gioco con Mannella e in questo modo consente all'undici di Stefano Tronconi di calare il loro poker.